Sì, sono a nord. Il nord. Sono anni che non vedo Utkarsh. Senti, c'è una cellula del sentiero d'oro. Brava gente. Utkarsh è subito a nord del ponte e gli uomini della cellula conoscono la zona alla perfezione. Vorrei che ti mettessi in contatto con loro, ma attento. Hai visto la guardia reale? Sono soldati più forti e furbi di quelli dell'armata. Come hai fatto? Come sei scappato dalla prigione? Ti sei arrampicato con denti e unghie? Sei per metà scimmia e metà regno? Ti aspettano al piano di sotto. Grazie per averci riunito con il sentiero d'oro a sud. Di Adamite e Sabal che siamo pronti alla lotta. Hanno scelto dei... Guarda un po' che bel forticino. Hagan! No, è la mia famiglia. Oh, questo. Oh, mi piace. Che cos'è? Mogano? Ma guardala. Una bella coppia in una bella casetta. Proprio brava gente. Dunque, sai che... Mi hanno detto che per scoprire la vera ospitalità di Utkarsh... Allora bisogna andare... Dai Ranas. No, abbiamo chiesto a tutti. E tutti ci hanno detto la stessa cosa. Loro sono i più ospitali. Chiacchierano con tutti. Con tutti, ho chiesto. Con tutti, dicevano. Erano così convinti che ho deciso di scoprirlo di persona. È carino. Ecco, insomma... Volevo avvisarvi. Avvisarci? Beh sì. Ora, non so se lo sapete, ma mi dicono che da queste parti c'è gente molto poco arraccomandabile. E sono preoccupato che questa gente, questi terroristi... Beh, possano abusare della vostra ospitalità. Rovinando questa bella reputazione. Sarebbe un peccato se succedesse. Certo. Già. Bene. Mi consentite... Dunque... Di proteggervi? Voi... E la vostra... Reputazione? Grazie. Siremi. Ogni tuo desiderio ha un ordine. Sono contento che siamo d'accordo. Bene. Non vi ruberò altro tempo. Ci vorrà... Solo un momento. E poi dicono che ho perso il contatto con i sudditi. No, ti uccidono! Voglio Pagan. Amita! Ho trovato Pagan! Lo sto inseguendo! Adai, puoi mettere fine a tutto! Lo so! Iscrivi al destro! E' un idiota! In tiracottero, levatevelo di dosso! La piccola merda mi sta seguendo! Uccidetelo! Uccidetelo! Unico è fallito! Unico! Unico è fallito! 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 Perfetti! Che credi che ci sia sulle banconote? Unico è fallito! 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 sulla mia morte sono completamente false e tendenziose. Sono vivo e va tutto alla perfezione. Ma la vita porta cambiamenti. E io vi imploro, figli del Kirat, guardate il mio esempio e capitene l'influenza positiva. Il cambiamento richiede forza. E io so che la forza non vi è mai mancata. Dunque, di recente ci sono stati dei cambi organizzativi. La signora Noor e il signor Paul Depler, dopo anni di fedele servizio, hanno rassegnato le dimissioni. Sono sicuro che, come me, gli augurerete buona fortuna. Ma come loro dobbiamo guardare avanti, non indietro. L'attentato ai miei danni non è altro che un sintomo della paura di cambiare. Tranquilli. Yuma Lau, il mio fidato braccio destro, a capo delle operazioni minerarie dello stabilimento KEO, si frapporrà fra me e qualunque aspirante assassino. Lei è pronta a morire, pur di proteggere la mia persona. Avanti, vi sfido. Provate a metterla alla prova. Ma riassumendo, il cambiamento è positivo. Accettatelo. Il re è vivo. Gioite. E Yuma è proprio come una sentinella. In attesa. Fatevi sotto. Pare che ci stia sfidando. Le miniere, sai cosa fare? Grazie a tutti. 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 Dopo tutto quello che ho fatto per lui. Prima che avevasse quella troia di tua madre non temeva niente. Nulla gli esisteva. Poi tua madre... Tuo amore! Non c'è un po' che entrava tutti i barbini. Tutti i barbini. Non c'è un po' che... 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 Ne lo farà questo paese... E tu... Nemmeno tu ce la farai a sconfiggermi! Non c'è un po' che... 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 Non c'è... Non c'è un po' che... Non c'è un po' che... Non c'è un po' che... Non c'è... 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 No c'è... Non c'è... Ah... Non c'è... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.